Ma al comune Mezzogaudio si direbbe perché la questione delle elezioni del prossimo giugno, maggio, questo ancora non lo sappiamo, lo dobbiamo capire bene, interessa più comuni, quindi appunto al comune Mezzogaudio. Come sapete che c'è la polemica di Ragusa con le varie quasi dimissioni, comunque tanti candidati, ma si voterà anche ad Acate. Con noi c'è Gianfranco Fitone che è candidato, lo possiamo dire, candidato alla carica di sindaco di Acate e lo ha fatto con largo anticipo, quindi il partire 6, 7, 8 mesi prima non è un male. Allora, con noi grazie Gianfranco. Buonasera a tutti. Dunque, come nasce questa tua idea di candidarti a fare il sindaco di Acate? Allora, la mia candidatura a sindaco nasce dal basso, nasce dalla richiesta di tante forze sociali, civili, politiche, dalla richiesta di tanti cittadini che da anni premono per una mia candidatura. Da anni premono per una mia candidatura perché io ho fatto politica per tanti anni, anche di Acate, dove ho rivestito la carica di consigliere comunale, ma da dieci anni ho abbandonato lo scenario per dedicarmi totalmente alla libera professione di avvocato. Bene, nel corso di questi anni tante sono state le pressioni e diciamo che una volta raggiunta anche una quadratura all'interno della mia realtà professionale, del mio studio professionale, ho capito che erano mature le condizioni per una discesa in campo e l'ho fatto con largo anticipo, mettendo da parte quello che è anche un po' la bicella politica che vorrebbe tanta cautela, tanta ponderazione quasi dei tempi, delle tempistiche per avviare una campagna elettorale delicata come quella per le elezioni amministrative e l'ho fatto senza pensarci nemmeno troppo, quindi senza troppi calcoli, perché fondamentalmente c'è tanta voglia di ribaltare uno stato di cose che ha relegato il nostro paese Acate a Fanalino di Cora della provincia di Ragusa e non solo, devo dire. Senti, Acate si vota col sistema chi vince e prende tutto, mi pare? Maggioritario, rigorosamente maggioritario, liste da 12 candidati al Consiglio Comunale. E chi prende un voto più? Con un solo voto si determina l'elezione del sindaco senza ballottaggio. E al momento ci sono altri candidati, a parte magari il sindaco uscente, non lo so. Non si sa se il sindaco uscente si ricanditerà, parrebbe di sì, ma non è dato saperlo, si profilano tante altre candidature, tutte per l'amor di cielo autorevoli. Allora, questa è una cosa interessante, io ho detto anche in un articolo che ho fatto oggi sul nostro giornale Reteblea che quando ci sono tante candidature è perché magari la gente non è proprio contentissima del sindaco, perché se ci fossero quei sindaci che sono, sai sai, di quelli che vengono eletti a furor di popolo, dici ma che li mettiamo a fare, manco vale la pena. Quindi vuol dire che Acate non sono contenti di come è stata gestita fino a ora la cosa pubblica, diciamo. Io credo proprio di no, senza nulla voler togliere all'attuale sindaco, professionista serio, capace per bene, Acate, come ho detto poc'anzi, è ridotta veramente all'umicino ed è ridotta all'umicino ovviamente non per responsabilità soltanto dell'attuale amministrazione, ma in ragione di una lenta discesa che l'ha vista sfortunata protagonista negli ultimi 20 anni, perché negli ultimi 20 anni si sono succedute una serie di amministrazioni che hanno portato Acate al dissesto, dissesto dal quale è uscito recentemente il Comune, ma tutte amministrazioni che recano di fatto la stessa impronta, perché per dieci anni dal 2003 al 2013 c'è stato lo stesso sindaco che è stato Giovanni Caruso, è fatto notorio, la protesta contro il malgoverno di Giovanni Caruso porta all'elezione di Franco Raffo, 2013-2018, la protesta contro l'amministrazione Raffo porta a Di Natale che viene eletto da Giovanni Caruso, anche questo è fatto notorio perché di Giovanni Caruso era espressione salvo un successivo allontanamento e Giovanni Caruso anche lui, insomma personaggio storico degno di massima stima della politica catese, si ripropone dopo 15 anni… Quindi ci sarà anche lui candidato al sindaco? Sarà sicuramente della partita il dottore Caruso, una candidatura più che legittima, si riproporrà come candidato al sindaco dopo aver già svolto le funzioni di sindaco per ben tre mandati dopo essere stato fra l'altro anche segretario della democrazia cristiana quando le segreterie contavano per non so quanti anni, quindi comunque è un uomo che ha determinato nel bene o nel male le sorti del paese, quindi si profila uno scenario che è chiaro, il passato o la rottura con il passato perché di questo si tratta, se oggi a Cate piace è chiaro che i cittadini non potranno che scegliere la continuità che sarà rappresentata sia dal sindaco di Natale che dal dottore Giovanni Caruso. Se vogliono cambiare? Se vogliono cambiare ovviamente dovranno guardare al futuro, dovranno avere il coraggio rivoltare pagina, non necessariamente con la proposta del mio gruppo, ci mancherebbe, però è chiaro che c'è questo discrimine che è importante. Una cosa importante, intanto non abbiamo detto se ci sono partiti, perché generalmente in questi comuni quando si vada così sono liste cittadine, ma c'è un'estrazione? Cioè fate riferimento al centro-destra, al centro-sinistra? No, 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 assolutamente no, come dice bene lei direttore, nei piccoli comuni le logiche partitiche di fatto non esistono. Si fa una lista. Si portano avanti dei progetti civici all'interno dei quali, attenzione, possono tranquillamente, è il mio caso, possono tranquillamente trovare spazio, forze politiche, le forze politiche più disparate, ciascuna con la propria dignità, ciascuna con il proprio spazio, ma i progetti sono sostanzialmente civici. Allora perché Acate è così in crisi? Economicamente è una città che non ha più degli stimoli, vengono a mancare, che so, l'uva o piuttosto che un'altra cosa. Qual è il problema economico di Acate? C'è che avrà di essere breve, chiede no. Cirodici qua ci vuole un giorno. Esattamente, l'analisi sarebbe sin troppo complessa, la crisi del comparto agricolo è inevitabile che vada a colpire anche un tessuto economico come quello acatese che sull'agricoltura si regge, quindi questo è un primo dato fondamentale, ma al di là della crisi economica direttore, io dico che c'è una crisi di identità che vive il nostro paese e la vive perché negli ultimi vent'anni ha regnato la mediocrità, Acate è scomparsa dai radar di qualsiasi contesto, non solo economico, sociale, politico, non si parla più di Acate da nessuna parte, in televisione, sui giornali, è un paese che è caduto totalmente nell'anonimato, da quest'anonimato vogliamo farlo uscire perché Acate è un paese ricco di eccellenze, anche da un punto di vista economico perché in territorio acatese insistono delle realtà imprenditoriali assolutamente invidiabili, tra le più grandi non solo della provincia di Ragusa ma dell'intero meridione, del vino, ci sono aziende che occupano centinaia e centinaia di persone, quindi autentiche eccellenze, fra l'altro alcune di queste realtà sono di imprenditori locali, quindi non soltanto grandi realtà che hanno messo le radici del nostro territorio ma anche realtà locali, molto molto importanti, impegnate in diversi settori, ecco nonostante queste eccellenze Acate stenta a spiccare il volo, quindi noi questo ci prefiggiamo, di guardare al futuro con rinnovato ottimismo creando una squadra che mette insieme competenze, esperienza e anche forze fresche, forze giove. Io ho fatto un articolo sempre su un'idea che ha detto le volate lunghe, la volata lunga sai, certe volte chi lo fa? Lo fa quello che magari non è scattista alla fine, nel ciclismo e vuole partire, non c'è il disco che vi stancate per esempio? Assolutamente no. Si spompa in questa... Assolutamente no, siamo usciti dagli schemi anche per questo perché vogliamo creare un legame con la città, con la cittadinanza, vogliamo farlo nel corso del tempo, vogliamo fare capire quelle che sono le fondamenta del nostro progetto, costruirlo insieme alla gente che stiamo incontrando quotidianamente e che ci sosterrà in questo percorso. non ci spaventano le volate lunghe perché siamo tutti uomini del fare, che non hanno bisogno della politica per tornaconto personale, ringraziamo il Dio, e che vogliono donare il proprio impegno, il proprio tempo, a riportare in auge un paese che ha anche un'importante tradizione storica, che a noi in più sconosco. C'è un bel castello. Un castello che potrebbe essere usato totalmente posto anch'esso nel dimenticatoio e che è al centro assolutamente del nostro progetto. L'ultima domanda, però, dovere di cronaca, la vostra lista ha già un nome o ancora ci devo pensare? Non ha un nome, siamo in una fase di costruzione e anche di impostazione della campagna di comunicazione perché punteremo tantissimo anche su questo, ma magari avremo tempo e modo di risentirci e di rivederci. Grazie Gianfranco Fidone che come avete capito è già candidato a sindaco a Dacate, si vota a Dacate, a Ragusa e forse in qualche altro... Primavera del 2023, Dacate, Ragusa, Modica e Comiso. Grazie, andiamo avanti. Grazie a voi.